Buonasera a tutti Prego Ok, le slide dovrebbero vedersi correttamente Perfettamente Perfetto Ancora un attimo Ok, ci sono Benissimo Buonasera a tutti anche da parte mia Ringrazio Metroni per questo invito In quest'ora che trascorreremo insieme Come già anticipato da Silvia Andremo ad analizzare i principali passaggi Dedicati al conteggio dei carboidrati Con l'obiettivo di fornirvi alcune informazioni Indicazioni pratiche e spero utili Soprattutto a chi si è da poco avvicinato a questa nuova tecnica Ma anche a chi poi fosse interessato al proseguimento del percorso presso la diabetologia di riferimento Il programma di questo incontro prevede un'introduzione sull'alimentazione nel diabete di tipo primo e un approfondimento sul conteggio dei carboidrati In particolare andremo ad analizzare dove sono contenuti i carboidrati E quali metodi abbiamo a disposizione per quantificarli nelle porzioni di consumo Con particolare riferimento alla corretta stima della porzione dell'alimento Che è l'elemento cruciale poi per un corretto conteggio dei carboidrati Concluderemo poi questo webinar con un esempio di calcolo dei carboidrati applicato ad un pasto Innanzitutto è doveroso fare una premessa che è la seguente L'alimentazione nel suo complesso è un aspetto fondamentale nel raggiungimento di un buon controllo glicemico e metabolico A tal punto che le principali società scientifiche e diabetologiche la considerano una vera e propria terapia Al pari di quella farmacologica e di quella educazionale Gli obiettivi della terapia nutrizionale sono numerosi Io qui voglio portarvi all'attenzione i principali e quindi raggiungere e mantenere un buon controllo glicemico Espresso come una emoglobina glicata target ma anche una percentuale di glicemie ideali nel range 70-180 Il raggiungimento di un buon controllo pressorio, quindi una corretta pressione arteriosa E un buon profilo lipidico, quindi un colesterolo totale LDL e dei trigliciri di a target al fine di ridurre il rischio delle malattie cardiovascolari Obiettivi della terapia nutrizionale infatti sono anche quello di prevenire e rallentare Lo sviluppo delle complicanze legate al diabete E non meno importante è quello di rispettare i fabbisogni nutrizionali personali di ciascuno di noi Che dipendono essenzialmente dall'età, dal sesso, dall'attività fisica In considerazione anche delle preferenze culturali e personali e quindi dello stile di vita più in generale E non da ultimo mantenere il piacere di mangiare Aspetto che non deve essere mai tralasciato e trascurato Nonostante le numerose attenzioni che dobbiamo porre all'alimentazione Dobbiamo sempre garantire un piacere ogni volta che ci avviciniamo al cibo Subito ci domandiamo se esiste una dieta ideale per il diabete di tipo 1 In realtà la risposta è no, sappiamo che non esiste una dieta specifica per il diabete di tipo 1 Ma valgono le indicazioni di sana e corretta alimentazione che valgono per la popolazione generale E che prevedono la seguente suddivisione calorica e dei nutrienti I carboidrati, quindi i cereali, pane, pasta e derivati Devono rappresentare la maggior quota delle calorie totali giornaliere Questo cosa vuol dire? Tradotto in parole semplici Che devono essere presenti a tutti i nostri pasti Perché devono fornirci almeno il 45-60% delle calorie totali giornaliere I carboidrati semplici contenuti in frutta, bevande zuccherate, dolci in generale Devono essere però molto limitati Quindi al di sotto del 10% delle calorie totali giornaliere I grassi possono rappresentare fino al 35% delle calorie totali giornaliere Ma sarà importante mantenere al di sotto del 10% i grassi di natura satura Quindi i grassi che provengono soprattutto dagli alimenti di origine animale Quindi burro, strutto, lardo Ma anche i grassi che sono contenuti nelle carni, nei salumi, nei formaggi E che possono anche essere nascosti in alcuni prodotti da forno Dando più spazio invece ai grassi mono e poliinsaturi Provenienti dai grassi vegetali come gli oli, d'oliva, extravergine di oliva Dalla frutta secca oleosa Ma anche dal carne bianca e dal pesce La restante quota calorica sarà poi dedicata all'apporto proteico Che quindi prevede la carne, il pesce, le uova e i legumi Quindi il modello alimentare mediterraneo può rappresentare lo stile di vita che tutti noi dovremmo seguire E il modello del piatto sano che qui ho voluto riportarvi Ne è un esempio grafico molto efficace Proviamo quindi ad immaginare il nostro pasto E pensare quanto siamo allineati o meno a questo modello Il modello del piatto sano mediterraneo prevede l'introduzione a tutti i pasti di una quota di carboidrati Prevalentemente sotto forma di cereali integrali Quindi pane, pasta, cereali integrali Limitando i cereali raffinati Una quota di proteine salutari Quindi provenienti soprattutto da carne bianca, pesce e legumi Limitando il consumo settimanale di carni rosse derivati della carne e formaggi Una quota di ortaggi Variando il più possibile la scelta e rispettandone la stagionalità Una porzione di frutta Anche in questo caso variando bene la scelta della frutta E una quota di grassi sani Quindi sotto forma di olio o frutta secca oleosa Corretto poi raggiungere anche una adeguata idratazione Che si traduce con un apporto di acqua giornaliero Di un litro e mezzo, due circa Evitando le bevande zuccherate Fatta questa doverosa premessa Quindi su quale può essere il modello alimentare Adottare nelle nostre scelte quotidiane Vediamo ora il conteggio dei carboidrati Che si inserisce nell'ambito della terapia medica nutrizionale Per il diabete di tipo primo Ed è considerato la strategia più efficace ad oggi Per il controllo glicemico post-prandiale In chi pratica terapia insulinica Che questa sia sottocutanea continua Quindi tramite microinfusore Oppure tramite penne di insulina multiniettive Che cos'è il conteggio dei carboidrati? È una tecnica che ci consente di modificare la dose di insulina Sulla base dei carboidrati che desideriamo assumere al pasto A seconda di un rapporto insulina-carboidrati noto È un percorso in effetti complesso Organizzato in più incontri Che prevede il raggiungimento di numerosi obiettivi Al fine di raggiungere un'autonomia Nella gestione della terapia insulinica al pasto I principali obiettivi del percorso sulla conta dei carboidrati Sono infatti questi Sapere cosa sono i carboidrati Riconoscerli negli alimenti di consumo Quantificarli all'interno di un alimento E quindi di un pasto Ed infine Conoscere il proprio rapporto insulina-carboidrati E fattore di correzione Due strumenti che ci consentiranno poi Di calcolare la dose di insulina pre-pasto Sulla base del contenuto in carboidrati E della glicemia pre-parandiale Il primo obiettivo della conta dei carboidrati È sapere cosa sono i carboidrati Li possiamo chiamare carboidrati glucidi o zuccheri Ma sono tutti sinonimi Stiamo identificando quel macronutriente Che è fonte preferenziale di energia Quindi che fornisce energia al nostro corpo E che abbiamo visto prima La deve fornire per almeno il 45-60% Delle calorie totali giornaliere Quindi è il macronutriente più rappresentato Nella nostra alimentazione Ed è anche quello maggiormente responsabile Dell'aumento della glicemia dopo un pasto Come ho voluto riportare in questo grafico Vediamo molto bene che In seguito all'assunzione di una porzione di carboidrati La glicemia subisce un rapido rialzo A partire già da 20 minuti dall'assunzione degli stessi E entro i 90 minuti Tutti i carboidrati assunti al pasto Vengono completamente metabolizzati Quindi la glicemia viene modificata Immediatamente nel post-assunzione carboidrati A differenza di grassi e proteine Che possono influenzare la glicemia al pasto In modalità completamente diversa Innanzitutto con dei tempi più lunghi E con una percentuale di rialzo glicemico Nettamente inferiore rispetto a quella generata Dei carboidrati Le proteine infatti Possono influenzare la glicemia A distanza di 3-5 ore dal pasto E circa il 40-60% Delle proteine assunte al pasto Può essere convertita appunto in glucosio A distanza di questo avore I grassi Che possiamo ritrovare sì Neli condimenti tipici Burro, olio Ma possiamo ritrovare anche Nei secondi piatti Quindi nelle carni Nei pesce Nei salumi Nei formaggi Possono influenzare la glicemia A distanza di numerose ore dal pasto Fino a 10-12 ore dal pasto E in una misura Molto molto minima Circa il 10% dei grassi assunti al pasto Si può convertire in glucosio Appunto a distanza di molte ore Il secondo passaggio Della conta dei carboidrati Prevede il riconoscimento dei carboidrati Negli alimenti di consumo Dove sono i carboidrati? Sono contenuti principalmente in questi alimenti Che vedete raffigurati Quindi nei cereali Grano, farro, orzo, camut Grano saraceno Quinoa, segale Triticale, spelta Nella farina e nei derivati Quindi in tutto ciò che possiamo lavorare con la farina Dai biscotti, ai cracker, ai grissini Al pane, alla polenta Nei tuberi Conosciamo soprattutto le patate Ma anche tapioca, manioca, topinambur E nei legumi Legumi che anche qui possono essere sotto forma Di fagioli Ceci, piselli, fave, lenticchie Cicerchie, edamame Soia Ma ancora possiamo ritrovare i carboidrati In frutta Succhi di frutta Marmellata Composte Zucchero Miele Bevande zuccherate Latte Yogurt Cioccolato E dolci In generale I carboidrati Si distinguono poi In due famiglie I carboidrati complessi Sostanzialmente l'amido Che ritroviamo nei cereali Nei derivati Nei tuberi Nelle leguminose Caratterizzato da un assorbimento lento Si tratta di una molecola Composta da numerose unità Il cui processo digestivo E quindi l'assorbimento È più lento E quindi può andare a modificare La glicemia post-prandiale Con una velocità inferiore Rispetto invece Ai carboidrati semplici Che sono sostanzialmente I monosaccaridi Glucosio Fruttosio Galattosio Odisaccaridi Lattosio Maltosio Saccarosio Quindi molecole Dalla struttura molto breve Caratterizzate da tempi di digestione E quindi di assorbimento Ben più rapidi Che possono influenzare Rapidamente la glicemia Li ritroviamo Negli alimenti Che vedete qui raffigurati Quindi nella frutta Nei succhi di frutta In ciò che può derivare Dalla frutta Nel miele Nello zucchero Nel latte Nelle caramelle Nei dolci In generale E li possiamo riconoscere facilmente Perché caratterizzati Dal sapore dolce Quindi ogni qualvolta Ci dovesse venire un dubbio Qualora si avverte il sapore dolce Là subito dobbiamo pensare Che ci sia un carboidrato semplice A meno che non stiamo per assumere Un alimento dolcificato Che quindi in quel caso Ci può ingannare Poiché ha sapore dolce Ma sappiamo bene Che contiene Un dolcificante di sintesi A calorico Che non è in grado Di influenzare la glicemia Non tutti i carboidrati Sono quindi uguali L'abbiamo appena visto C'è chi può alzare Più velocemente la glicemia C'è chi la può alzare Meno velocemente Sappiamo molto bene Che pasti Che hanno lo stesso contenuto In carboidrati Possono generare Una risposta glicemica Completamente diversa Questo dipende Da i numerosi fattori Che possono influenzare La risposta glicemica Postprandiale Fattori che possono essere Alimentari Nutrizionali Certamente Ma anche non nutrizionali Restando tra i fattori Nutrizionali Primo fra tutti Vi è l'indice glicemico L'indice glicemico Misura la velocità Con cui un alimento Alza la glicemia Tutti gli alimenti Sono stati valutati Per il loro indice glicemico Che viene espresso In percentuale Rispetto ad un alimento Preso come riferimento Che è rappresentato Dal glucosio Che è stato definito Avere un indice glicemico Di 100 Quindi a seconda Del loro indice glicemico Gli alimenti Possono essere classificati A basso Medio O alto Indice glicemico Vi è però Un limite In questo Parametro Sono le numerose Variabili Che a loro volta Possono influenzare L'indice glicemico Tra quelle elencate Voglio riportarvi L'attenzione Sulla modalità Di cottura La modalità La modalità di cottura Può modificare di molto L'indice glicemico Di un alimento Sappiamo per esempio Che la pasta Consumata Molto cotta Ha un indice glicemico Più elevato Rispetto Ad una pasta Consumata Al dente Ancora una volta Le patate Da sempre considerate Ad elevato indice glicemico Possono ridurre di molto Il loro indice glicemico Se lasciate raffreddare Nell'immediato post Nell'immediato post cottura Questo è dovuto Ai fenomeni Di retrogradazione Dell'amido Quindi alla formazione Di un amido resistente Che non può essere attaccato Dagli enzimi del corpo E che quindi risulta Sostanzialmente Indigerito L'indice glicemico Varia anche In base Al contenuto In grassi e proteine Dell'alimento E poi vedremo Del pasto stesso Se sono presenti Grassi e proteine La velocità Di assorbimento Del zucchero È nettamente inferiore E quindi Avremo un indice Un alimento Con un indice glicemico Mediamente più basso Più in generale Possiamo semplificare Dicendo che Più l'alimento Contiene zuccheri Semplici Più ha un indice Glicemico elevato E quindi Come ho voluto Raffigurare Nell'immagine Alimenti Come succhi di frutta Bevande E dolci in generale Possono alzare La glicemia Più velocemente Rispetto ad alimenti Che hanno Un contenuto In zucchero Semplice Ben più basso E magari hanno Una quantità Di fibra Maggiore Fibra Che È in grado Di rallentare L'assorbimento Degli zuccheri A livello intestinale E quindi Modificare L'indice glicemico Del nostro alimento Anche secondo Le linee guida Scientifiche Diabetologiche L'indice glicemico Deve essere preso In considerazione Nella scelta Della qualità Del pasto E dell'alimentazione Poiché Una dieta A basso indice glicemico Determina Un miglioramento Del controllo glicemico Tuttavia L'indice glicemico Non è l'unico Parametro Che dovrebbe essere Tenuto in considerazione Per una valutazione Completa Poiché L'indice glicemico Ci indica Solamente la qualità Di un carboidrato Cioè Ci dice Se un carboidrato Può influenzare Velocemente O meno velocemente La glicemia Ma non tiene in considerazione La quantità Di carboidrato Che stiamo per andare Ad assumere Quindi Ecco che viene introdotto Il concetto Di carico glicemico Che tiene invece In considerazione La quantità Di carboidrati Contenuti In quella porzione E viene moltiplicato Per l'indice glicemico Di quell'alimento Il carico glicemico Quindi ci consente Di fare Effettivamente Un confronto Tra due alimenti Che hanno Una porzione Equivalente In carboidrati E che possono avere Degli effetti Diversi Sulla glicemia Nel concreto Nella pratica Quindi Possiamo Cercare sempre Di fare Dei pasti Completi Quindi dei pasti Che prevedano La presenza Non solo di carboidrati Ma anche di grassi E proteine Questo ci aiuta A controllare meglio Il rialzo Il rialzo Il rialzo della glicemia Postprandiale Possiamo scegliere Degli alimenti Maggiormente ricchi In fibra E con un contenuto In zuccheri Semplici Più basso In questo modo Riusciremo A limitare I picchi Di glicemia Che si possono presentare In seguito Al pasto Proseguiamo Ora Nel nostro percorso Con La terza fase Quella che Ci aiuterà A quantificare I carboidrati Presenti In un alimento Per conoscere Quanti carboidrati Sto per assumere È fondamentale Conoscere Il peso Dell'alimento E della porzione Che voglio consumare E quindi Uno strumento Fondamentale Nelle prime fasi Del conteggio Dei carboidrati È certamente La bilancia Bilancia Che infatti È ritenuta Il metodo Gold standard Nel Ovviamente Nella valutazione Di una porzione Dell'alimento Possiamo utilizzare Le bilance Da cucina Digitali C'è chi Utilizza delle bilance Anche di piccola dimensione Facili da Trasportare Esistono anche Degli utensili Da cucina A forma di cucchiaio Che sono delle bilance Quindi Ne esistono Di diverse tipologie Sarà fondamentale Sia per la misurazione Degli alimenti solidi Che degli alimenti liquidi ML È uguale a grammo Come unità di misura Ricordiamoci bene però Che il peso Degli alimenti È sempre Riferito A crudo Quello che leggiamo Sulle etichette nutrizionali Quello che troviamo Scritto Sugli strumenti Dedicati al conteggio Dei carboidrati Quelli che possiamo Leggere Su qualunque Strumento È sempre Riferito a crudo Se il peso È riportato a cotto Solitamente Viene specificato Questo è un elemento Che spesso Porta A numerosi errori Perché Vengono compilati Dei diari alimentari Riportando Un peso a cotto E quindi L'operatore Che non sa Che il peso È riferito a cotto Può Incorrere Appunto In errori Quindi è bene Specificare sempre Che il peso Andrebbe riportato Crudo Questo perché La cottura Può modificare Il peso Dell'alimento Soprattutto Quando si parla Di alcuni alimenti Come per esempio I primi piatti Quindi la pasta Il riso L'orzo Il farro I ravioli Ma anche Soprattutto I legumi E quindi Sono presenti Dei fattori Sono stati calcolati Dei fattori Di conversione Per ciascun Alimento In modo tale Che Possano essere Uno strumento Utile Per calcolare Il peso a crudo Quando L'alimento È già cotto Facciamo un esempio Pratico In questa tabella Vi ho riportato Una serie Di alimenti E la modifica Del loro peso La modifica Di 100 grammi Di alimento Con la bollitura E quindi Il peso cotto Prendendo L'esempio Della pasta Di semola corta Quindi Delle penne Per esempio Dei fusilli 100 grammi Di pasta Di semola corta Con la cottura Diventano circa 190 grammi 200 grammi Quindi il fattore Di conversione Della pasta Da crudo A cotto È circa 2 Possiamo infatti Dire che la pasta Raddoppia il peso Con la sua cottura Nel caso Nel caso Dei legumi secchi Partendo da 100 grammi Di legumi secchi A seconda che siano Ceci Fagioli O lenticchie Vedete che Il peso cotto Raggiunge Almeno 250 300 grammi Quindi Il fattore Di conversione Del legume secco Da crudo A cotto Si avvicina A 2.53 Infatti I legumi Quasi Triplicano Il loro peso Con la cottura Cerchiamo di non fare Però questo errore Quello di Modificare anche Il contenuto In carboidrati Ciò che si modifica Con la cottura È semplicemente La porzione Di alimento Non il contenuto In carboidrati Quindi Nell'esempio Sotto riportato 60 grammi Di pasta corta Con la bollitura Raddoppiano Circa il loro peso E quindi Diventano 120 grammi Di pasta cotta Il contenuto In carboidrati Resta lo stesso Conoscere Il fattore Di conversione Da crudo A cotto Di un alimento Ci consente Di ricavare Il peso crudo Dell'alimento Partendo dal Peso cotto Ovviamente Questa è una stima Della porzione Abbiamo già detto Che il metodo Gold standard È la bilancia Queste sono Delle strategie Differenti Alla bilancia Qualora Non sia possibile Valutare L'alimento Crudo Oppure Non ci siano Altri metodi Per raggiungere Una stima Il più precisa Possibile Della porzione Dell'alimento Quali sono Le misure Alternative Alla bilancia Che possiamo Utilizzare Le unità Di misura Casalinghe Rappresentano La prima strategia Per la stima Del peso Possono essere Cucchiai Mestoli Tazze Bicchieri Piatti Fondi O piani O altri Strumenti Da cucina Misurini Di vario tipo Ciascuno Può costruire La propria Personale Strategia Di misurazione Del peso Alternativa La bilancia Bilancia Che resterà Però Fondamentale Inizialmente Poiché Tutte queste unità Di misura Devono comunque Essere rapportate Alla bilancia Da cucina In modo da far Corrispondere All'unità Di misura Casalinga Che sia Il cucchiaio La tazza O il bicchiere Il peso Dell'alimento Valutato In grammi Questo però È un metodo Di valutazione Della porzione Che ci aiuterà Pian piano A ridurre L'utilizzo Della bilancia E renderci più autonomi Anche fuori casa Laddove appunto Non abbiamo Lo strumento A disposizione In questa slide Ho voluto Riportare Alcuni esempi Di misure Casalinghe Che potete usare Per esempio Il cucchiaio Da minestra Può essere utilizzato Per valutare Il peso Di un cucchiaio Di riso Sappiamo che Un cucchiaio Di riso Raso Quindi non Troppo colmo Porta 15 grammi Quindi Nella valutazione Di quanto riso Voglio cucinare Posso sfruttare Il cucchiaio Se non ho A disposizione La bilancia Lo stesso Può avvenire Con il bicchiere Oppure Possiamo utilizzare Tutti quegli Misuri Misurini E strumenti Alternativi Casalinghi Che più Preferiamo Un altro Metodo Alternativo Per valutare Il peso È il metodo Volumetrico E questo Metodo Si basa Sull'utilizzo Della propria Mano Quindi È uno strumento Di misura Strettamente Personale Legato Alla propria Taglia Corporea In particolare Il volume Della mano Viene rapportato A quello Di alimenti Di cui conosciamo Ancora una volta La grammatura Quindi È necessario Fare degli esercizi A casa Possiamo Utilizzare La mano Chiusa A pugno Per valutare Il volume Di una porzione Di pane Il volume Di una porzione Di patate O di un piatto Di riso cotto O di una porzione Di pasta Possiamo utilizzare Il palmo Della mano Per valutare Alimenti Che si sviluppano In larghezza Quindi che occupano Una superficie Può essere Una fetta di pane Una fetta di polenta Una fetta di pizza Una fetta di torta E ancora Possiamo utilizzare Le dita Sia per la valutazione Di una superficie Ma anche Soprattutto Dello spessore Immagino Una fetta di pane Che troviamo Al ristorante Possiamo confrontarla Con il nostro palmo E valutarne Lo spessore Con le dita E crearci Una nostra misura Alternativa Alla bilancia Le dita Possono anche Essere usate Per misurare Il diametro Quindi La circonferenza Di una porzione Di spaghetti Oppure Di un alimento Che possiamo Abbracciare Con le dita In modo tale Da costruirci A seconda Di quale falange Diciamo Utilizziamo Come riferimento Costruirci Delle porzioni Alternative Dei metodi Alternativi Alla bilancia Per porzionare L'alimento Quindi Dopo aver Valutato La porzione Dell'alimento Con la bilancia E dopo Eserci creati Degli strumenti Alternativi Alla bilancia Che possono essere Le misure Di casalinghe E il metodo Volumetrico Possiamo poi Procedere Con il conteggio Dei carboidrati Vero e proprio Quali sono I principali strumenti Che abbiamo A disposizione Per quantificare I carboidrati Di un alimento Primo fra tutte Le tabelle Degli alimenti Che riportano Il contenuto In carboidrati In 100 grammi Di alimento Di alimento E in diverse Porzioni Ne esistono Di prestampate Diverse Diabetologie Hanno creato Le proprie Tabelle Degli alimenti Oppure Possiamo Accedere Direttamente Alle banche dati Da cui sono state Da cui hanno tratto Le informazioni Queste tabelle E tutti gli strumenti Dedicati al conteggio Dei carboidrati Queste sono Le principali Banche dati Italiane La banca dati Del IEO Dell'Istituto Europeo Oncologico E la banca dati Dell'Istituto CREA Entrambi istituti Che si occupano Di ricerca Nell'ambito Degli alimenti E della nutrizione Accedendo A questi Riferimenti Sitografici Potete Inserire L'alimento Di cui siete interessati E troverete Tutte le informazioni Dedicate All'alimento stesso In particolare Il contenuto In carboidrati Secondo strumento Più utilizzato E efficace Diciamo Nella conta Dei carboidrati È l'etichetta Nutrizionale Presente ormai Sulla maggior parte Degli alimenti Confezionati Ci fornisce Tutta una serie Di informazioni Legate all'alimento Tra cui Anche il valore energetico Quindi le calorie Le proteine I carboidrati I di cui zuccheri I grassi Di cui saturi Le fibre Il sale Per chi Pratica il conteggio Dei carboidrati È fondamentale Soffermarsi Sul contenuto In carboidrati Non considerando Il di cui zuccheri Che invece È già compreso Nel totale Carboidrati Ed identifica Solamente La quota di zucchero Semplice Presente Nell'alimento Il valore Può essere riportato Per 100 grammi Di alimento Oppure In un singolo Pezzo O porzione La cui Quantità È definita Dal produttore Verifichiamo Sempre Che Il contenuto In carboidrati Dell'alimento Che sto Per consumare Corrisponda Effettivamente A quello Indicato Dall'etichetta Se voglio Assumere Il pezzo O porzione Qualora La porzione Di alimento Che intendo Consumare Fosse Differente Da 100 grammi O ancora Differente Dal pezzo Proposto Dall'etichetta È necessario Saper impostare La proporzione Che ci consente Quindi Di calcolare Il contenuto In carboidrati Di un alimento Quando la mia porzione È diversa Dai 100 grammi Sarà fondamentale Partire dal peso Dell'alimento Che voglio Consumare Moltiplicarlo Per i grammi Di carboidrati Contenuti In 100 grammi Di alimento E dividere Poi per 100 Vediamo Un esempio Pratico Ipotizziamo Di voler Calcolare Il contenuto In carboidrati Di una porzione Di biscotti Secchi Una porzione Di biscotti Secchi Che abbiamo Valutato Con la bilancia E il peso È 40 grammi Andiamo a recuperare Il contenuto In carboidrati In 100 grammi Di alimento Tramite l'etichetta Nutrizionale Quindi Non ci soffermiamo Sulla voce Di cui zuccheri Ma valutiamo Il contenuto In carboidrati Totali Che è 77 grammi Di carboidrati In 100 grammi Impostiamo Quindi ora La proporzione Quindi Moltiplichiamo Il peso Dell'alimento Per i carboidrati Contenuti In 100 grammi Il totale Ottenuto Va diviso Per 100 In modo tale Che Si possano Quindi Ricavare I carboidrati Contenuti Nella porzione Consumata In questo caso In 40 grammi Di biscotti secchi Ci sono circa 31 grammi Di carboidrati E quindi Questa è la proporzione Che dobbiamo Sempre Tenere In considerazione Un metodo Ancor più semplice Per stimare Il contenuto Poi in carboidrati È L'utilizzo Di alcune Applicazioni Per cellulare Questa Che vi presento È quella Di Medtronic Conta su di me Raccoglie Numerosi alimenti Suddivisi In base Al gruppi alimentari In diverse Categorie Per ciascun Alimento Sono disponibili Tre porzioni Predefinite Ma è anche Possibile Inserire Una porzione Differente Da quelle proposte E avere In automatico Il conteggio Dei carboidrati Quindi È una strategia Pratica Che non ci richiede L'impostazione Di una Proporzione Ma Ci Facilita Sicuramente Nel processo Di conteggio Dei carboidrati Può essere utilizzata Anche fuori casa Qualora Appunto Non abbiamo a disposizione La bilancia Per Effettuare un confronto Tra l'alimento Che ho Di fronte agli occhi E quello E quello Raffigurato Dall'immagine È possibile Anche creare Una lista Di alimenti Preferiti Quindi All'interno Della raccolta Andare a registrare Come preferiti Gli alimenti Che più Consumiamo Nella giornata Alimentare In modo da Ritrovarli Rapidamente Nella sezione Dedicata Lo stesso strumento È disponibile Poi in versione Cartacea Quindi in formato Di libretto Riporta le fotografie Sempre Degli stessi piatti In tre porzioni Differenti Con la relativa Composizione Bromatologica Quindi Non solo Carboidrati Ma Abbiamo anche I valori Di calorie Grassi Proteine Quindi Dopo aver valutato La porzione Dell'alimento Con la bilancia Metodo Gold Standard E Aver costruito Delle misure Alternative Volumetrico O Con l'utilizzo Di utensili Da cucina Gli strumenti Che abbiamo A disposizione Per contare I carboidrati Sono Le tabelle Degli alimenti O le banche Dati Online Come riferimento Scientifico Preciso Le etichette Nutrizionali Disponibili Sulla maggior parte Delle confezioni Degli alimenti E infine Le applicazioni Per il cellulare Particolarmente Utili Quando Siamo fuori casa Passiamo Ora Ad un esempio Pratico Quindi Un esempio Di pasto Preso Da un diario Alimentare E Procediamo Con Il Calcolo Dei carboidrati La prima cosa Da fare È Identificare Quali sono I carboidrati Del pasto Diciamo Che questo È un pasto Particolarmente Ricco Di carboidrati Quindi Sono tutti Fonte di carboidrati Ad eccezione Dell'insalata Quindi Ecco che Gli alimenti Fonte di carboidrati Sono Il pane La frutta La cotoletta La pasta Il pomodoro Il vigne La crema La verdura Solitamente Non ha un contenuto In carboidrati Così elevato Fatta eccezione Per qualche tipologia Di verdura Carote Peperoni Cipolle Nella porzione Di insalata Che abbiamo visto Raffigurato Il contenuto In carboidrati È certamente Trascurabile Possiamo contare I carboidrati Della verdura Qualora Si trattasse Di una verdura Particolarmente Ricca di carboidrati Quindi carote Come ho appena detto Peperoni Cipolle Oppure Qualora la porzione Fosse davvero abbondante Quindi è il caso Di una minestra Di verdure Di una zuppa Di verdure Anche in quel caso Se il prodotto È etichettato Possiamo fare riferimento All'etichetta Che riporterà Il contenuto In 100 grammi E quindi ci richiederà Di fare Di applicare La proporzione Per stimarne Il contenuto Effettivo Nella porzione Che andiamo a consumare Oppure Se si tratta Di una ricetta Fresca Dovremmo fare Il calcolo Dei carboidrati Della nostra ricetta Personale Tornando Al nostro esempio I carboidrati In questo pasto Si ritrovano Quindi in questi Cinque alimenti Proviamo Ad applicare Tutto quanto Abbiamo visto Sin dall'inizio Nella stima Dei carboidrati E nel calcolo Dei carboidrati Di questi alimenti Partiamo Dalle fette Di pane Come possiamo Stimare E calcolare La porzione Di pane Se abbiamo La bilancia Possiamo Pesarle Se ci siamo Costruiti Delle misure Alternative Alla bilancia Quindi in particolar modo Il metodo volumetrico Qua risulterebbe Molto efficace Possiamo Confrontare La fetta Di pane Con il nostro palmo E misurarne Lo spessore Con il dito Oppure Possiamo Usare L'applicazione Per cellulare Qualora L'immagine L'immagine Raffigurata Sull'applicazione Fosse Più o meno Corrispondente A quella Del pane Che abbiamo Di fronte Abbiamo Valutato Il peso Del pane Con la bilancia Ciascuna fetta Pesa 20 grammi Quindi il totale Del pane Integrale È 40 grammi Andiamo A recuperare Il valore Il contenuto In carboidrati In 100 grammi Di pane Attraverso Le tabelle Degli alimenti Oppure Trattandosi Di un pane Fresco Non abbiamo Un'etichetta Oppure Possiamo Valutarlo Attraverso Le applicazioni Per il cellulare In 100 grammi Di pane Integrale Ci sono Circa 50 grammi Di carboidrati Applicando La proporzione Calcoliamo Che in 40 grammi Di pane Sono presenti 20 grammi Di carboidrati Passiamo Ora Al conteggio Dei carboidrati Del piatto Di pasta Al pomodoro Anche qui Se siamo a casa Possiamo utilizzare La bilancia Pesare a crudo L'alimento Un attrezzo Da cucina Molto utilizzato Per valutare Nel modo più preciso Il peso Della pasta È il cestello Separatore Che si può Inserire Nella pentola Dedicata Alla bollitura Della pasta All'interno Del quale Si può mettere La porzione Di pasta Pesata Grammata Che quindi Verrà cotta Nella stessa pentola Che si può usare Per cucinare Anche la pasta Della famiglia Mantenendo Separata La propria Porzione Quindi in questo caso Pesiamo la nostra bilancia Cuciniamo La nostra porzione Separatamente In una pentola Oppure Attraverso Questo cestello Separatore Che ci mantiene Separata La porzione Di pasta Rispetto a quella Prevista Per l'intera famiglia Oppure Possiamo valutare Il peso A cotto Della pasta Immaginiamo Di cucinare Per tutta la famiglia E di non avere A disposizione Un cestello Separatore Che potrebbe Aiutarci Nel mantenere Separati Separate Le porzioni Quindi possiamo Pesare a cotto La pasta Ancora priva Di condimento Ovviamente Poiché Il condimento Aggiungerebbe Peso Ma non carboidrati E quindi Dal peso cotto Della pasta Dividere per due Si ottiene La stima Di quello Che è Il peso crudo Il peso crudo Della pasta Due Ricordate È il fattore Di conversione Che abbiamo visto Della pasta Da crudo a cotto Il mio suggerimento Prima di Fare riferimento Al fattore Di conversione È di valutare Sempre Ciò che accade A casa vostra Mi spiego meglio Ci sono Il fattore di conversione È comunque Una media Valutata Su Appunto Una media Di cotture Di paste Diverse Quindi è sempre bene Valutare La variazione Del peso Della pasta Da crudo a cotto Con la propria Tecnica di cottura E la tipologia Di pasta Che solitamente Si intende utilizzare C'è chi stima Il peso della pasta Partendo dal numero Di pezzi In questo caso Dal numero di penne Oppure dal numero Di paccheri Verrebbe sicuramente Più facile Si può usare Anche il metodo Volumetrico Qualcuno si costruisce Degli strumenti alternativi Quindi valutando La dimensione Quanto Il piatto È colmo Se è riempito Al raso Oppure Un po' più colmo Oppure utilizzare Le applicazioni Per il cellulare Anche qui Ancora una volta Confrontare L'immagine Dell'app Con quella Che abbiamo Di fronte agli occhi Abbiamo misurato Questa pasta 80 grammi cruda Recuperiamo Il contenuto In carboidrati In 100 grammi Di pasta Attraverso L'etichetta Della confezione Della pasta Se si vuole Oppure Facendo comunque Assumendo una Una media Di 70 73 grammi Di carboidrati Ogni 100 grammi Di pasta Quindi In questa porzione Di 80 grammi Di pasta Sono contenuti Circa 58 grammi Di carboidrati Passiamo Al conteggio Dei carboidrati Della cotoletta Alimento Che crea Sempre Un po' Di difficoltà Sia per il conteggio Di carboidrati Ma anche poi Per la curva Glicinica Che può generare Soprattutto Se è una cotoletta Fritta Cucinata Nel metodo Diciamo Classico Che quindi Porta anche Molti grassi Che abbiamo visto Possono influenzare La glicemia Anche tardivamente Se l'etichetta È un prodotto Confezionato Possiamo recuperare Il valore Attraverso L'etichetta Nutrizionale Se invece È un prodotto Realizzato In casa Quindi legato Ad una ricetta Magari Della tradizione Sarà importante Provare a calcolare I carboidrati Della ricetta Carboidrati Che sono presenti Ovviamente Nel pangrattato Non negli altri ingredienti Utilizzati solitamente Per realizzare La cotoletta E quindi Il pangrattato Ogni 100 grammi Ha 68 carboidrati Possiamo quindi Provare a stimare Quanto pangrattato Resta A rivestire La cotoletta Pesando Tutto il pangrattato Che si intende Utilizzare E il pangrattato Che avanza Resta Dopo l'impanatura Della cotoletta La differenza È sostanzialmente Il pangrattato Che resta Attaccato Alla fetta di carne Oppure Ancora una volta Possiamo stimare Il contenuto In carboidrati Della cotoletta Attraverso L'utilizzo Di un'applicazione Per cellulare Abbiamo stimato Un peso Di 150 grammi Di cotoletta E rifacendosi Rifacendoci Una media Di 12 carboidrati Di 100 grammi Di cotoletta Abbiamo calcolato Che in 150 grammi Di cotoletta Sono presenti Circa 18 grammi Di carboidrati Ci manca poi Il calcolo Del carboidrato Della mela Mela Che possiamo valutare Con la bilancia Oppure Possiamo costruirci Un metodo alternativo Alla bilancia Volumetrico Con il pugno Quindi confrontare Il nostro pugno Ad un volume Ad una mela media E ricavarne I grammi Oppure ancora una volta Confrontare La mela Che vogliamo mangiare Con quella proposta Dall'applicazione Pesiamo questa mela Una mela media Pesa all'incirca 150 grammi In 100 grammi Di mela Ci sono 10 grammi Di carboidrati Questo dato Può essere Ricavato Dalle tabelle Degli alimenti Dalle banche Dati presentate Precedentemente Oppure può essere Ricavato Dall'applicazione Per il cellulare Quindi in 150 grammi Di mela Sono presenti Circa 15 grammi Di carboidrati Infine il calcolo Del bignè Innanzitutto Possiamo valutare Il peso Del bignè Con la bilancia Oppure il metodo Volumetrico In particolare Immagino di abbracciare Con l'indice E il pollice Il bignè E valutare La dimensione In questo modo Oppure utilizzando L'applicazione Per il cellulare Quindi confrontando Il bignè Proposto dall'app Con quello che Intendiamo Consumare Immaginiamo Di aver pesato Questo bignè Che pesa Circa 40 grammi E che il contenuto In carboidrati In 100 grammi Di bignè Alla crema È di circa 40 grammi Di carboidrati Applicando La proporzione 40 grammi Di bignè Alla crema Contengono Circa 16 grammi Di carboidrati Ecco Arriviamo Quindi Al calcolo Dei carboidrati Di un pasto Che È sostanzialmente La somma Dei carboidrati Di tutti gli alimenti Che sono stati Consumati E quindi Nel nostro caso Un pasto Da 127 grammi Di carboidrati A questo punto Chi Utilizza la conta Di carboidrati E conosce Il proprio rapporto Insulina Carboidrati Può procedere Può procedere Con il calcolo Della dosi Di insulina Sulla base Dei propri dati Forniti Dall'equip Diabetologica Chi invece Segue uno schema Carboidrati Fissi Può comunque Sufruire Delle conoscenze A noi dietisti Rende sicuramente Più flessibili Le nostre scelte Alimentari E quindi Ci aiuta In un certo senso A mantenere Quel piacere Di mangiare Che va Conservato È un percorso Educazionale Lungo Strutturato E al cui termine Si ottengono Delle conoscenze Delle competenze Oggi abbiamo visto Quali sono Le fasi principali Del conteggio Dei carboidrati Quindi sapere Cosa sono i carboidrati Dove sono contenuti Conoscere la differenza Tra semplici E complessi E quindi Quantificarli Nei singoli alimenti E all'interno Del pasto Dopo aver Correttamente Stimato la porzione Tramite L'utilizzo Della bilancia In primis E poi creandoci Degli strumenti Alternativi Alla bilancia Che possono essere Il metodo volumetrico Oppure l'unità Di misura casalinghe Saper utilizzare Quindi anche Gli strumenti Dedicati al conteggio Dei carboidrati Come leggere Le etichette E come Sfruttare Le applicazioni Disponibili Per il cellulare Abbiamo visto Che i carboidrati Non sono l'unico Nutriente Ad influenzare La risposta Glicemica Post-prandiale Ma che altri Fattori Concorrono In questo In particolar modo La presenza Di grassi Proteine Ma anche fibra Alcol Tuttavia La letteratura Le linee guida Ci dicono Che Conoscere il contenuto In carboidrati È fondamentale Per stabilire In primis La dose di insulina Da praticare Prima del pasto E questo E questo È utile Sia A chi Conosce I propri Rapporti Conosce Utilizza I propri Rapporti Insulina Carboidrati Sia Per chi Segue Uno schema A carboidrati Fissi Non dimentichiamoci Da ultimo Che Adottare Uno stile Di vita Sano Equilibrato Come tutti Dovremmo fare Da sempre Ci consente Sicuramente Di migliorare La risposta Glicemica Post-prandiale Ma anche Mantenere Uno stato Di salute Generale Più possibile Preservato E con questo Vi ringrazio Grazie Anna Per Questa Per questa Lezione Sono arrivate Diverse domande Ad alcune Molto Molto pratiche Abbiamo provato A rispondere Io e Alessandro Ci sono state Una grande richiesta De Della registrazione Dei materiali E quant'altro Rimangono Aperte Tre domande Essenzialmente Comincerei Dalla terza Esistono Delle tabelle Degli alimenti Che a fianco Del contenuto In carboidrati Indicano Anche L'indice Glicemico No Allora Non esistono Esistono Però Delle tabelle Che Classificano Gli alimenti Secondo L'indice Glicemico In Appunto Alimenti Ad elevato Medio O basso Indice Glicemico Perché questo Non viene fatto Perché L'indice Glicemico Di per sé È un fattore Valutato sì Ma fortemente Influenzabile Da numerose Variabili Per esempio Possiamo avere Un indice Glicemico Di un frutto Ma Il grado Di maturazione Di quel frutto Potrebbe cambiarlo La cottura Della patata Abbiamo Ho detto prima Consumata Fredda O bollente Ha un indice Glicemico Completamente Diverso Quindi è un parametro Importante Sì da considerare Ma che Non ci Porterebbe Comunque A modificare La terapia Insulinica Quindi è un parametro Qualitativo Che deve essere Sicuramente Considerato Nella scelta Dell'alimento Quindi se posso Scelgo un alimento Che ha un indice Chelicemico Più basso Però Io credo Che il motivo Per cui non venga Poi riportato Accanto ai carboidrati È proprio Per non creare Confusione Perché È necessario Insomma Che venga spiegato E che venga Spiegato Per bene Come sfruttare Come utilizzare Poi quel Quel valore Grazie Non so se ho risposto Alla domanda Se mai la persona Che ce l'ha La può Scrivere ancora Un'altra domanda La quale Penso che in parte Tu abbia già risposto Però La ripetiamo Le app Che propongono Il calcolo Dei carboidrati E permettono La personalizzazione Delle porzioni Sono affidabili A suo avviso Allora Dipende Ovviamente Dalle fonti Che queste app Hanno utilizzato E quindi Nel caso dell'app Conta su di me Certamente sì Perché I dati riportati Sono proprio Tratti Dalle banche dati Che ho presentato In particolar modo Dalla banca dati del CREA Che è tra le banche dati Più autorevoli Nell'ambito Della valutazione Della composizione Degli alimenti Quindi in questo caso Sì Posso dire Che è affidabile Grazie Poi c'è Una persona Che dice Mio figlio Pietro Ha dodici anni Ed è affetto Da diabete Da due anni Noi in genere Cerchiamo di dargli Cento Unità di carboidrati Sia a pranzo Che a cena Ma inizia ad avere Un'età in cui Ha sempre fame È possibile Augmentare Tale quota? È possibile Valutando la crescita Del ragazzo Quindi se I centili di crescita Peso e altezza Sono ben allineati Se il ragazzo Fa molto sport Comunque è un'età Per cui adesso Diciamo Parte Si dice E scatta Con l'altezza E quindi sicuramente I fabbisogni Sono aumentati Quindi Nessun problema Ad aumentare i carboidrati Ricordiamo però sempre Di partire Da un pasto Ben Equilibrato Quindi aumentiamo I carboidrati Se il pasto È già ben completo Poiché Se ha ancora fame Ma al momento Il pasto È composto Da solo Un piatto di pasta Allora prima Mi sentirei Di consigliarle Di completare bene Il pasto Aggiungendo anche Una porzione di secondo La verdura La frutta E eventualmente Una porzione ancora Di pane E quindi Completare Proprio il pasto Nella sua composizione Qualitativa Se il pasto È già completo Sia il pranzo Che la cena E anche la colazione È una buona colazione Sono presenti due spuntini E nonostante ciò Il ragazzo Ha ancora fame Ripeto Valutando La crescita Con il Con il pediatra Certamente Si possono aumentare C'è margine C'è margine per aumentare Ancora i carboidrati Grazie Poi un'altra domanda Io faccio il conteggio Di carboidrati Da circa dieci anni Cosa potrei aggiungere In più rispetto Alla questione Indice glicemico Per migliorare Il controllo Allora La composizione Del pasto Quindi Spesso Nell'analisi Dei diari alimentari Ma anche Per Nelle abitudini Della maggior parte Degli italiani Mi rendo conto Che a volte Il pasto è composto Solamente Da un gruppo alimentare Quindi si tende A fare quella Qui Che a tanti piace Chiamare dieta dissociata Quindi mangio La pasta E la verdura A pranzo E a cena Il secondo Con la verdura Ecco Secondo me Dal punto di vista Soprattutto del profilo Glicemico post Prandiale Introdurre Tutti I macronutrienti Quindi Carboidrati Proteine Grassi E verdura In un unico pasto Ci consente Di avere un profilo Glicemico post Prandiale Migliore Poi Non so se sta facendo Riferimento In particolare Ad un pasto Piuttosto che Un altro Andrebbe poi Valutato Il tipo di tecnologia Che sta usando Quindi come sta facendo L'insulina Che tipo di insulina Utilizza Quindi ovviamente È una risposta Che potrei Affrontare meglio Se conoscessi di più La persona In linea generale Soffermandomi Solo All'aspetto Nutrizionale Oltre all'indice Glicemico Quindi al carico Glicemico Anche del pasto Cercherei di Creare dei pasti Che hanno Tutti i macronutrienti Per ridurre Il più possibile Il picco Postprandiale Che si genera Grazie Anna Andiamo Andiamo avanti Il difficile Assorbimento Dei carboidrati Contenuti Nella pizza È equiparabile A tutti i lievitati No Allora In realtà La pizza È sicuramente L'alimento Di più difficile Gestione Sostanzialmente Per diversi motivi Il primo motivo È Che i carboidrati Di una pizza Sono numerosi Quindi Si parla Di almeno 120-140 grammi Di carboidrati Come possiamo Stimare il contenuto In carboidrati Di una pizza Chiedendo Al pizzaiolo Quanto pesa In media Quel panetto Rispetto al peso Del panetto La metà Sono carboidrati Quindi Stimando Un panetto Che pesa Almeno 250 grammi Il contenuto In carboidrati È quindi Di 125 Almeno Se poi Aggiungiamo Una birra Oppure Delle patatine Fritte Ovviamente Questo contenuto In carboidrati Può aumentare Ulteriormente E questo È il primo Aspetto La prima Criticità La seconda Criticità È che la pizza Non è solo Carboidrato È tanto Tanto Altro Cioè sono Tanti grassi E anche Tante proteine Immaginiamo Che già solo La mozzarella Presente sulla pizza Va ben oltre Quei 100 grammi Di mozzarella Che tutti Conosciamo E quindi Già di per sé Quello rappresenterebbe Una porzione Di secondo Piatto In termini Di proteine Se poi Ci aggiungiamo Dei salumi Dell'olio piccante E andiamo avanti Così Con le varie Diciamo Con le varie Diciamo Ad arricchire Ulteriormente La nostra pizza Quindi la quantità La quantità Di grassi E proteine Può aumentare Notevolmente E questo È il motivo Per cui La glicemia Dopo l'assunzione Della pizza Può alzarsi Di molto Anche nelle ore Notturne Quindi anche Anche a distanza Di 5-6 ore Da che ho mangiato La pizza Un altro aspetto Che gioca Un ruolo Non così marginale Sono i tempi Di lievitazione Della pizza Sono stati fatti Degli studi Di tecnologia alimentare Che hanno mostrato Come La pizza A lunga lievitazione Quindi fino a 48 ore Viene digerita meglio E ha una risposta Glicemica Molto più controllabile Rispetto ad una pizza Che ha una lievitazione breve Altro aspetto Da considerare Nella quota Di carboidrati È anche Lo zucchero Che talvolta Può essere utilizzato Nelle conserve Di pomodoro Ai fini appunto Di conservare Meglio il prodotto Quindi sono Diversi aspetti Che concorrono A rendere la pizza Un alimento Davvero di difficile gestione Per cui Solitamente Va discusso Con il diabetologo Con La dietista Di riferimento Qual è la miglior gestione Della pizza Che potrebbe essere Diversa Tra una pizza E l'altra Quindi Il mio suggerimento È sempre quello Di fare degli esperimenti Quindi iniziare A trovare La giusta Gestione Della pizza Preferita Consumata Al ristorante Da Ciro Per fare un esempio E poi Da lì Trovare la gestione Di tutte le altre pizze Solitamente La pizza Viene meglio gestita Con una doppia iniezione Quindi sicuramente Poi il diabetologo Potrà dare indicazioni Più precise Su come Controllare meglio La curva glicemica Generata da un pasto pizza Grazie Grazie Anna Stanno arrivando Tantissime domande Quindi stiamo cercando Di accorpare Devo dire Che questa bella Spiegazione Sulla pizza Ne ha presi Tre o quattro Ok Allora Direi Questa qui Per esempio Per quanto riguarda L'indice glicemico Delle patate Viene abbassato Anche se si mettono Le patate a mollo In acqua Prima della cottura Nello studio Che ho citato Prima Che è uno studio Di tecnologia alimentare Il suggerimento Per ridurre Ulteriormente L'indice glicemico Della patata Era quella di cucinarla In acqua abbondante E privata Della buccia Quindi Non so se era descritto Proprio l'ammollo Della patata Però in questo studio Veniva suggerito Di togliere la buccia E cucinarla In acqua abbondante Questo Consentiva La perdita Di una maggior quota Di amido Un po' come avviene Può avvenire Con il riso Quindi lasciarlo In amollo Un paio di ore In acqua Fredda Prima della cottura Consente di andare A deamidare Il riso Quindi ridurre La sua Percentuale di amido E quindi Ridurre L'indice glicemico Non cambiare I carboidrati Ecco questo Ci tengo a sottolinearlo Quindi L'indice glicemico È la misura Della qualità Del carboidrato Cioè Mi alzerà La glicemia Più velocemente O meno velocemente Il conteggio Dei carboidrati Quindi quanti carboidrati In quell'alimento Resta comunque Il fattore Determinante La dose di insulina Del pasto Grazie Ci chiedono anche Cosa consigli A mangiare Negli spuntini Eh Questo Dipende Dipende Dalla disponibilità Di ciascuno Di noi A fare Eventualmente Una iniezione In più Se non ho Il microinfusore Oppure Se ho il microinfusore Sicuramente Diventa più facile Fare degli spuntini Anche con dei carboidrati Perché Basta Erogare La dose di insulina Necessaria Quindi Nel caso Di Un paziente Con microinfusore Che quindi Non ha Il fastidio Di dover fare Una iniezione In più Il consiglio Allo spuntino È Una porzione Di frutta Yogurt E frutta Una porzione Di frutta Secca Oleosa Magari Da accompagnare Ad uno yogurt Tutti alimenti Di solito Il frutto Si presta Molto bene Come spuntino Oppure A seconda Delle necessità Di ciascuno Quindi Se stiamo parlando Con uno sportivo Sicuramente Lo spuntino Dovrà essere Un pochino Più ricco Più sostanzioso Quindi Un frutto Potrà non bastare Così come Se stiamo parlando Di un adolescente Un frutto Potrà non bastare Mentre se parlo Ad una donna Di 60 anni Con una vita Mediamente sedentaria Il frutto Può essere Un ottimo spuntino Tuttavia Cercherei di limitare Il consumo Di prodotti Confezionati Quindi Brioche Confezionate Prodotti Estremamente salati Grassi O ricchi in zuccheri Semplici Cercando di stare Su dei prodotti Più naturali Semplici Quindi con un elenco Ingredienti Corto Oppure Meglio ancora Degli alimenti freschi Quindi dalla frutta Allo yogurt Frutta secca oleosa Pane fresco Meglio se integrale Delle confetture A ridotto contenuto In zuccheri Oppure se vogliamo Scegliere anche Ogni tanto Dei cracker Dei grissini Cercando di Scegliere dei prodotti Qualitativamente Migliori E quindi sostanzialmente Meno salati Che è un po' L'ingrediente Che spesso tende Ad essere molto Presente Nei prodotti Da forno Confezionati Che consumiamo Come Come spuntini Grazie Grazie Anna Direi Adesso Giusto per non Andare Troppo in là Facciamo L'ultima Che però Penso Possa essere Molto interessante Utilizzo Da molti anni Il calcolo Dei carboidrati E mi trovo Molto bene Tuttavia Se mi recco All'estero E pranzo In ristoranti Con cucina locale Ho molta difficoltà Soprattutto Le salse Questo Sì Non posso che darle ragione Ovviamente Perché nel momento In cui Si impara A gestire Un pochino La cucina italiana E si passa Ad un'altra cucina Ovviamente Le difficoltà Ci possono essere Soprattutto Per quegli ingredienti Nascosti Ingredienti Nascosti Che possiamo Sperimentare Anche noi Con la cucina Etnica E in particolare Il sushi Spesso Tra le varie Salse Utilizzate A completamento Dei vari piatti Percepiamo Sicuramente Il sapore dolce In alcune Quindi Quelli sono ingredienti Nascosti Che sicuramente È difficile Da intercettare Soprattutto Da quantificare È sempre un po' L'esperienza Che ci insegna In quel caso E quindi Così come Per il sushi Ho fatto questo esempio Volontariamente Partiamo Da delle conoscenze Di base Che possono essere Per esempio Un pezzo di riso Contiene all'incirca Dai 6 agli 8 grammi Di carboidrati È comunque Una stima Perché non sappiamo Nel dettaglio Quel ristorante Giapponese Come ha realizzato Quel pezzo di riso Quanto sciroppo Di glucosio Ha utilizzato Per tenere Ben Saldo I chicchi di riso Quanto zucchero È presente Nelle varie salse Quindi Chi si trova Ad andare spesso All'estero Per Per lavoro E quindi Ad avere anche Abitudini alimentari Differenti A questi Consiglio sempre Di procedere Un po' Per esperienza Così come Per il sushi Partiamo Da un menu Che ci soddista E impariamo A gestire Quello Cioè Sulla base Delle certezze Che ci siamo Costruiti Con dei pasti Tradizionali Proviamo Al contrario A gestire I pasti Davvero più Difficili E complessi L'unica Alternativa È quella Di chiedere La ricetta Quindi Se Riesci a chiedere Le ricette Io li le calcolo Volentieri E potrebbero essere utili Anche a molte altre persone Perché Sicuramente Con i pasti Diciamo Con la cucina etnica Che ormai È diventata Anche abbastanza comune In Italia Ci troviamo In diverse situazioni In diverse situazioni A dover affrontare Questa problematica E Anna Ancora Una Perché L'ho vista E penso Che possa interessare Diverse persone La frutta secca In quale quantità È consigliabile Assumerla Per non eccedere Che poi si ricollega Anche a tutto un discorso Che avevi fatto prima Sui grassi La frutta secca La porzione media La porzione media Di consumo giornaliera Per la popolazione In generale È di 30 grammi Massimo 40 Al giorno Per non eccedere Possiamo pensare Di dividerla In due Quindi per non avere Una quota di grassi Concentrata In un unico momento Suddividerla Sui spuntini Oppure distribuirla Sulla giornata A piacere A condimento di insalate Oppure per arricchire colazione O spuntini Bene Grazie Grazie Anna Grazie a tutti Alessandro Grazie anche da parte mia Noi vi ricordiamo Che pubblicheremo La registrazione Di questo webinar Sulla nostra pagina Facebook Metronic Diabete Che vi invitiamo A visitare A seguire Se non Già la state seguendo E sempre Sulla nostra pagina Facebook Pubblicheremo L'invito Con il link Alla iscrizione Per la prossima E per il prossimo webinar Quindi Rimanete connessi Seguite la pagina Per essere aggiornati Ecco Sulla prossima Sul prossimo nostro appuntamento Perfetto Grazie a tutti E vi auguro Una buona serata Grazie Anna Buona serata Grazie Grazie a voi Grazie a tutti